Grazie. 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 Grazie mille e buongiorno. Vorrei partire da questo, diciamo, il mio secondo mestiere, perché appunto il primo considero sia quello di scrittore, è quello di insegnare all'università e ogni tanto mi capita, mi è capitato nel corso degli anni, ancora oggi mi capita di ricevere degli studenti che hanno, come dire, delle velleità o delle aspirazioni artistiche. E mi chiedono con curiosità e trepidazione qual è la via migliore per intraprendere una carriera letteraria. Naturalmente di primo acchito tendo a esercitare un'opera di dissuasione, nel senso che è una carriera che è irta soprattutto di frustrazioni. Come dice un mio collega molto più importante e molto più famoso, siamo nati per essere insultati, diciamo. E' l'esperienza che fa chiunque scriva. Dopodiché, quando mi rendo conto che in realtà c'è una forte motivazione in loro, sostanzialmente do loro due consigli, non particolarmente geniali, ma credo estremamente efficaci. Uno è un consiglio un po' filisteo, è un consiglio un po' meschino, e cioè il fatto che tendenzialmente per accedere al mondo delle lettere, per fare lo scrittore per esempio, tendenzialmente si deve entrare in relazione, e noi siamo appunto a un festival che quest'anno si occupa di relazioni, di connessioni, con il mondo in cui i sogni di entrare, quindi con il mondo editoriale, quindi avere rapporti con le riviste letterarie, storiche, con qualche blog che oggi va per la maggiore. Il mio editor storico, che si chiama Antonio Franchini, che adesso non lavora più per la Mondadori, ma che ha lavorato tanti anni per la Mondadori, mi disse anni fa che loro ricevono una cosa come 300 manoscritti al giorno, da tanti anni, no, a settimana scusate, 300 manoscritti a settimana, e non hanno mai pubblicato uno solo, di questi 300 arrivati da fuori. Tendenzialmente per arrivare ad essere pubblicati bisogna essere in connessione con quel mondo, bisogna essere espressione di quel mondo. E' un po' come l'università, no? Si viene sostanzialmente assunto. Diciamo, qui mi fermo per quanto riguarda il consiglio più meschino. Il consiglio invece, quello più tecnico, è il fatto che tendenzialmente per interessare un editor a quello che stai facendo, anche se sei un esordiente totalmente sconosciuto, è quello di avere un buon titolo e un ottimo attacco, un ottimo incipit. Sapete, l'incipit, cioè l'inizio, è una cosa importante, ma è una cosa importante da poco tempo. Nel senso, in altri anni, all'inizio dell'Ottocento, per esempio, alla fine del Settecento, non c'era questa stessa sensibilità nel ghermirti immediatamente, parlo dello scrittore rispetto al lettore. C'erano molti meno lettori e c'era molta più pazienza. Oggi in realtà tu hai bisogno, come dire, di acchiappare subito. È un po' quello che Oscar Wilde chiama la prova del cucchiaino, legata al gelato. Non è che tu per capire se una coppa di gelato è buona tu devi mangiare tutto, ti basta un assaggio. È quello che tendenzialmente fanno gli editori. Per questo, diciamo, gli incipit hanno questa importanza sostanziale. Ma prima di addentrarmi nel discorso, vorrei fare un'ultima considerazione, diciamo, di carattere generale. E cioè, cosa resta di un romanzo quando noi l'abbiamo letto? Nell'esperienza che facciamo noi di lettori ci rendiamo conto che in realtà del romanzo, soprattutto se l'abbiamo letto molto tempo fa, resta ben poco. restano talvolta i personaggi, se è un romanzo straordinario. Tendenzialmente le trame, i plot, scompaiono immediatamente. È difficile che se io chiedessi a qualcuno che ha letto Illusioni perdute vent'anni fa, di raccontarmi la trama di Illusioni perdute, saprebbe raccontarmela. E allora perché uno li legge e cosa resta? Ecco, questo è un fatto sostanziale per me. Resta un clima, resta un'atmosfera. Dovete immaginare che un romanzo, anche un grande romanzo, è come scrivere un romanzo, è come organizzare un party, è come organizzare una festa. I dettagli contano, ma soprattutto conta l'atmosfera, conta quello che resta dopo che non lo leggi per tanto tempo. Per questo molti romanzi non lasciano traccia e altri invece lasciano dentro di te una traccia misteriosa che dura per molti anni. Ecco, devo dire che molto spesso quell'atmosfera viene data da un incipit. Basta un inizio, basta un attacco e noi già sappiamo dove ci troviamo. Per questo vorrei iniziare leggendovi un incipit che io adoro, di un grande scrittore settecentesco inglese, che si chiamava Fielding, che ha scritto un romanzo formidabile, il Tom Jones, dove lui attacca in una sorta di gioco genialmente metanarrativo con un incipit in cui si chiede qual è il dovere di un autore che inizia un libro. E allora inizia così. Un autore non dovrebbe considerare se stesso come un gentiluomo che offre un pranzo in privato e per beneficenza, ma come il padrone di una taverna nella quale tutti sono i benvenuti in quanto ospiti paganti. Diciamo, basta leggere questo incipit per capire già che ci troviamo in una certa atmosfera. Anzitutto che chi scrive è un uomo estremamente ironico, che ha una sua, come dire, una sua verve piuttosto cinica, possiamo collocarlo dato lo spirito nel settecento, possiamo capire che ha un atteggiamento estremamente mercantile, filisteo, che quindi probabilmente viene, come infatti viene dalla più grande potenza capitalistica di quegli anni, che era l'Inghilterra. Ma soprattutto è interessante il suo punto di vista, che è un punto di vista, ripeto, siamo nel settecento, che è sostanzialmente antiromantico. Perché, come dire, i romantici ci avrebbero insegnato che il dato sostanziale di un testo letterario è, come dire, la sua originalità, la sua bellezza illibata. E quindi, non so come dirvi, quando, che ne so, Flaubert scrive quello che sta scrivendo, ce lo serve in tavola e vuole che noi ce lo mangiamo, ma non sta a noi decidere quali sono le pietanze. E invece, appunto, Fielding, nel suo cinismo, ci dice no, 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 lo scrittore non è uno che ti invita a una festa e tu ti devi mangiare quello che c'è. Lo scrittore è colui che ti mette sotto il naso una specie di menu e sei tu che devi scegliere. E sei tu che puoi scegliere. E se non ti piace, puoi anche rimandarlo all'oste. Ecco, diciamo che lo scrittore, per Fielding, è una specie di host. Vorrei partire da qui proprio per tentare di capire quali sono queste offerte alimentari, stando sempre alla metafora, come dire, gastronomica, che uno scrittore può dare nei suoi incipiti. ho fatto, diciamo, avendo un'origine accademica, una certa ossessione per le tassonomie. Quindi ho provato a dividere, diciamo, l'incipit in alcuni gruppi. Partirei da questi. Quelli che chiamo gli incipit sapienziali. Ovvero sia, sono quel tipo di incipit in cui lo scrittore, sin dall'inizio, ti dà una grande verità sulla vita. La vita è fatta così, la vita fa schifo, la vita è bellissima, e via dicendo. Il più famoso, quello che conoscete tutti, anzi, due più famosi incipit sapienziali, che neanche li cito per quanto sono celebri, sono quello di Anna Cariene e quello di Orgoglio e Pregiudizio. Orgoglio e Pregiudizio, la Austin ci dice che i ragazzi ricchi devono sostanzialmente, servono a dare nutrimento coniugale alle belle ragazze, invece l'incipit olstoiano è quello sulle famiglie felici e le famiglie infelici, che probabilmente conoscete. Qual è il problema di questo tipo di incipit? Adesso ve le leggerò un paio, dell'incipit sapienziale. Il problema è che uno rischia costantemente di scoprire l'acqua calda, di esporsi al ridicolo di una frase che è sentenziosa e un po' già sentita. E allora quando si fa un incipit sapienziale, più che riflettere sulla verità del consiglio che tu stai dando al lettore, bisogna lavorare sul suono, sullo spirito, sulla brillantezza. Per dimostrare quanto ho appena detto, ho qui due casi che mi sembrano abbastanza emblematici, perché sono casi di due libri che hanno incipit, che sembrano almeno apparentemente in contrasto. Questo è famosissimo e bellissimo. Avevo vent'anni e non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita. Questo è l'incipit di Aden Arabia di Nisan. E poi c'è questo qua. Soltanto i giovani hanno momenti del genere. Non dico i più giovani, no. Quando si è molto giovani, a dirla esatta, non vi sono momenti, è privilegio della prima giovinezza vivere d'anticipo sul tempo a venire in un flusso ininterrotto di belle speranze che non conosce soste o attimi di riflessione. Ci si chiede alle spalle cancellate dall'infanzia e ci si entra in un giardino di incanti. Questa è l'ina d'ombra di Conrad. Ora vedete come le verità espresse da questi due incipit sono chiaramente in antitesi. Uno dice la giovinezza fa schifo. Non mi dite che la giovinezza non fa schifo. L'altro dice l'esatto contrario. Ora, diciamo, quando lessi questi due libri probabilmente mi sono chiesto da quale parte io dovessi collocarmi. Diciamo, non ho un bel ricordo della mia giovinezza e quindi probabilmente ha ragione Nisan in qualche modo. Allo stesso tempo però è vero che se io penso alla mia giovinezza credo che, come dire, quella è l'epoca in cui il nostro cuore prova delle epifanie in qualche modo che poi non proverà mai più nel corso della sua vita. Quindi in realtà sia Nisan sia Conrad hanno ragione. Però vedete come il dato sostanziale non è se hanno ragione o hanno torto, se ciò che dicono ha un valore o non ha un valore. La cosa bella è come lo dicono. La cosa bella è la brillantezza in cui lo dicono. Ecco che l'incipit sapienziale che molto spesso viene preso estremamente, con estrema serietà dai lettori, invece non va preso seriamente per la verità che viene espressa, ma per il modo in cui viene espresso. Un altro tipo di incipit molto in voga, soprattutto nell'Ottocento, era quelli che qui ho soprannominato gli incipit figurativi o cinematografici. Diciamo, noi oggi abbiamo, come dire, un'abitudine quotidiana a frequentare delle grandi immagini, no? Siamo costantemente esposti a delle immagini. Pensate, non so, televisione, smartphone, cinema, computer e via dicendo. Ecco invece che nell'Ottocento le cose non stavano così. Quindi quando noi dovevamo entrare in un romanzo, uno scrittore aveva l'esigenza di costruire, come dire, dei grandi contesti. Ecco che per farlo utilizzava una tecnica che oggi noi conosciamo nel cinema, che è proprio quella del piano sequenza. Cioè si parte molto dall'alto, in una grande figurazione, si stringe sempre di più finché si arriva a un dettaglio che sia un dettaglio importante e significativo. Noi che siamo italiani ci viene immediatamente in mente naturalmente i promessi sposi. Il famoso lago di Como, il ramo del lago di Como, no? Cioè quello è un incipit cinematografico a tal punto che in tutti gli sceneggiati, i film che sono stati dedicati a essi, parte sempre con quel lungo piano sequenza che ci porta in quei luoghi. Ma naturalmente lo utilizzano molti scrittori importanti. Penso all'incipit straordinario dell'educazione sentimentale, forse uno degli incipit più belli della storia letteraria, sicuramente francesi, di Flaubert. Questi incipit hanno, come dire, delle regole anche abbastanza importanti che sono per esempio il fatto che lo scrittore che ha l'esigenza di dare un certo movimento alla scena tendenzialmente tende a raccontare questo primo quadro in qualche modo partendo da un mezzo di locomozione. C'è sempre un mezzo di locomozione di mezzo. Non so, pensate ai libri di Tostoyevsky in cui c'è sempre un treno che arriva da qualche parte. Pensate a Tolstoi che adora i treni. I russi adorano i treni, forse perché hanno grandi distanze. I francesi adorano i piroscafi, forse perché, non so, c'è di mezzo la Senna, hanno grandi mari. Gli inglesi sono più da cavalli e da carrozze. Grandi inizi con cavallo e carrozze. Penso a un bellissimo racconto di Trollope che inizia con uno che cavalca. Perché questo? Per dare un senso, per entrare immediatamente dentro alla narrazione e che sia una narrazione dinamica. L'altra cosa interessante di questi incipit figurativi, di questi incipit cinematografici, è il fatto che, come dire, c'è l'esigenza da parte dello scrittore di dare degli elementi climatici atmosferici. E questo viene fatto anche lì perché sostanzialmente, se voi ci pensate bene, i romanzi parlano soprattutto del tempo. Noi lottori innamorati, che ne so, di letteratura ottocentesca, ci galvanizziamo ogni volta che incontriamo quelle meravigliose ellissi. Arrivò la primavera, arrivarono le prime nevi, passò il tempo, eccetera. Abbiamo proprio questo senso del tempo. Ecco che un romanziere, nel momento in cui ci immerge in questa grande scena, non solo la rende dinamica attraverso appunto dei mezzi di locomozione, ma fa in modo che noi abbiamo un'idea precisa dell'atmosfera. Era mattina, faceva freddo, faceva caldo. Pensate, non so, all'incipit di Stupendo, dell'Etrange di Camus, in cui immediatamente abbiamo quel senso di quel bollore, di quella canicola, quella che i francesi chiamano proprio la canicule. Ora, diciamo, a questa idea del tempo, del clima, può talvolta prendere un po' la mano. E allora volevo sottoporvi quell'incipit celeberrimo di un grande romanzo modernista di Musil, che è appunto L'uomo senza qualità, in cui noi già capiamo, come se, come dire, Musil volesse fare una sorta di parodia del classico incipit ottocentesco in cui si esagera soprattutto sugli aspetti appunto climati, in cui si indugia soprattutto sugli aspetti climatici, e questa parodia, come dire, diventa un po' quasi grottesca. E a noi basta leggere per capire che chi scrive è un uomo molto pedante e il personaggio che verrà messo in scena, che è tra l'altro l'uomo senza qualità, è un uomo altrettanto pedante. sull'Atlantico un minimo barometro avanzava in direzione orientale e incontrò un massimo incombente sulla Russia e non mostrava per il momento alcuna tendenza a schivarlo, spostandosi verso nord. Le isoterme e le isotere si comportavano a dovere la temperatura dell'aria in rapporto normale con la temperatura media annua, con la temperatura del mese più caldo, come quella del mese più freddo, e con l'oscillazione mensile a periodica. Sembra una carta meteorologica, dall'altro oggi mi sembra particolarmente in tema. Naturalmente è evidente che Musil nella sua spregiudicatezza sta facendo della parodia, però come dire, improvvisamente ci basta leggere questo incipit perché come dire, l'aspetto meramente meteorologico diventi invece doni in qualche modo una sorta di atmosfera all'intera scena. Per farvi capire come questo avvenga molto spesso c'è un incipit molto bello di uno scrittore invece contemporaneo che si chiama Jonathan Franz che recupera un po' questa tradizione ottocentesca ma che allo stesso tempo sembra dovere a Musil proprio l'idea che questa atmosfera climatica deve, come dire, deve avere anche un significato più profondo un significato per così dire spirituale e allora all'inizio delle correzioni troviamo un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria qualcosa di terribile stava per accadere lo si sentiva nell'aria il sole era basso nel cielo una stella minore un astro morente raffiche su raffiche di entropia vedete come qui il dato atmosferico tra l'altro che somiglia molto alle cose che stanno succedendo oggi negli Stati Uniti cioè sta per arrivare qualcosa di terribile si attende qualcosa di terribile è un tifone qualcosa del genere siamo in pieno Midwest è evidente che l'attesa di questo tifone che è un fatto concreto è un fatto appunto meteorologico però ha una sua come dire implicazione emotiva come infatti poche pagine dopo ci renderemo conto quando entriamo in contatto con i personaggi un altro tipo di incipit che personalmente amo molto sono quelli che ho voluto chiamare gli incipit i castici gli incipit i castici invece sono quelli che si affidano a un'immagine una sola anche un piccolo dettaglio un piccolo dettaglio figurativo ma che come dire è come se improvvisamente esplodesse caricandosi di significati direi che questo a mio giudizio è il più difficile degli incipit possibili e lo attribuisco soprattutto a un grande scrittore inglese del secolo no di due secoli fa oramai che è Charles Dickens ora Charles Dickens passa per essere uno scrittore realista una categoria diciamo letteraria nei confronti della quale ho una certa diffidenza perché sostanzialmente scrive come dire di una realtà estremamente come dire descritta in modo estremamente brutale in cui ci sono degli usurai dei bambini orfani quindi insomma gli slam londinesi particolarmente degradati però in realtà a dispetto di questa prima impressione che uno può trarre dai romanzi di Dickens la verità è che Dickens come dire è uno scrittore per me quasi di fiabe e è uno scrittore fiabbesco proprio perché ha una cura straordinaria per quelle che potremmo definire delle immagini bizzarre ora l'incipit che avevo in mente era quello di un libro bellissimo di Dickens che si chiama Don B. & Son Don B. e il figlio sapete Dickens è lo scrittore dell'infanzia quindi ha un debole per i bambini per i neonati per chi è appena nato quasi tutti i suoi romanzi iniziano con un bambino che sta nascendo pensate a quell'altro incipit meraviglioso che è quello di David Copperfield anche qui in Don B. & Son ci troviamo in un piccolo interno londinese che però ha qualcosa quasi di di pittura fiamminga e sentite qui che bellezza Don B. era seduto nell'angolo della camera in penombra sulla grande poltrona accanto al letto e il figlio era avvolto al calduccio in una cesta posata con cura su un basso divano proprio davanti al fuoco e molto vicino a esso come se simile questa l'immagine straordinaria ad un muffin per costituzione appena fatto andasse abbrustolito ora vedete come immediatamente passa appunto per uno scrittore brutale è uno scrittore di una tenerezza di un amore per la vita che per me non ha quasi paragone l'idea di paragonare un bambino vicino al fuoco quindi già immaginiamo un'atmosfera fredda il gelo il gelo dell'Inghilterra vittoriana con questo padre che tra l'altro stiamo per scoprire un padre che ha appena perso la moglie che gli ha dato questo bambino e poi c'è questo fagottino che sta vicino al fuoco e lui lo paragona Dickens lo paragona questo è il colpo di genio cosa lo paragona lo paragona a un muffin caldo appena fatto e in effetti un po' gli assomiglia è fragrante profumato ma soprattutto qual è il fatto bellissimo è il fatto che entrambi sia il muffin che il bambino appena nato lo mettiamo vicino al fuoco diciamo uno per riscaldarlo l'altro per abbrustolirlo e che sono due cose buone ma allo stesso tempo sono due cose estremamente indifese il bambino e il muffin e entrambi sia il bambino che il muffin con il piccolo donbi donbi figlio lo vedremo nel corso del romanzo con il muffin lo intuiamo sono pronti a essere divorati divorati da cosa? ma divorati dalle fauci della vita in qualche modo è bastata un'immagine per rendere un incipit che poteva essere completamente banale e anodino un incipit sublime non avrei voluto leggervelo questo ma devo leggerlo perché è altrettanto straordinario è sempre Dickens ed è un altro forse il romanzo più bello di Dickens quanto tempo ho? ancora? un quarto d'ora e allora mi sbrigo allora casa ah è un tempo interiore lo so no sono un vecchio accademico di mezza età allora l'altro l'altro incipit che volevo leggervi è quello di casa desolata sentite qui che roba altro che realista Londra sessione autunnale da poco conclusa e il lord cancelliere tiene udienza all'incolz Hinn Hall impeccabile clima di novembre tanto fango che nelle vie pare che le acque si siano da poco ritirate dalla superficie della terra e non stupirebbe incontrare un megalosauro di 40 piedi circa che guazza come una lucertola gigantesca lungo Holborn Hill anche qui un'immagine sfolgorante cioè lui dice uno scrittore poniamoci dal punto di vista di uno scrittore mediocre io devo fare la classica immagine di Londra appunto Londra vittoriano una Londra novembre quindi una Londra piovosa una Londra umida una Londra in cui è piovuta tutta la notte una Londra una Londra estremamente scura e allora descrivo in modo pedisse quei dettagli che ci parlino dei marciapiedi bagnati delle luci soffuse e via dicendo il nostro che era un genio invece si affida a un'immagine un'immagine che è un'immagine quasi di fantascienza quasi da fantasy cioè lui dice aveva piovuto talmente tanto che era come se le acque del diluvio universale sostanzialmente si fossero appena ritirate al punto tale che se qualcuno avesse incontrato un dinosauro per le vie di Londra non si sarebbe scomposto diciamo che c'è tutto Dickens in questo anzitutto vediamo come dire il gentleman che non si scompone di fronte a niente anche se incontra un dinosauro che ne so a Trafalgar Square ma poi soprattutto sentiamo come dire la fantascienza vi dicevo è anche un eco vorrei dire biblica quasi preistorica i dinosauri i dinosauri a Londra ecco che io ho letto questo incipit credo la prima volta che ho letto Casa desolata vent'anni fa e non mi è mai uscito dalla mente qual è il segreto è il dinosauro così come il segreto dell'altro incipit stava nel muffin questi sono gli incipit i castici se avessi un giovane allievo non glieli consiglierei perché sono certamente più difficili vorrei chiudere con quelli che ho definito l'incipit confidenziali ovvero l'incipit del crooner pensate che ne so a Frank Sinatra a Sammy Davis Junior a Dean Martin cioè questi che salgono sul palco ci intrattengono fanno le battute cantano delle canzoni sentimentali ci danno delle verità sulla vita il crooner cosa fa? il crooner come dire mette se stesso al centro affinché gli altri in qualche modo possano identificarsi con lui tendenzialmente questi incipit appunto l'incipit confidenziale l'incipit del crooner sono incipit in prima persona proprio perché tu hai bisogno di identificarti con proprio perché il lettore ha bisogno di identificarsi con una voce che dice io ora prima di leggerveli vorrei farvi capire perché sono così straordinariamente efficaci ed è un esempio che faccio spesso quando sono a lezione ai miei studenti ovvero sia immaginate che io vi dica ho incontrato l'altro giorno una persona che mi raccontava che una persona gli aveva detto che durante l'11 settembre del 2001 suo zio era nella torre 2 che ne so e il racconto naturalmente è un racconto drammatico un racconto estremamente interessante però è un racconto di terza quarta quinta mano quindi in realtà può essere stato modificato nel tempo non sentiamo che c'è una carica umana di empatia con il nostro interlocutore ci sta raccontando un racconto che non lo riguarda ma poniamo che voi incontriate una persona che vi dice io ero nella torre tal d'italia a quell'ora alle nove e mezzo e sono uscito improvvisamente la sua testimonianza diventa estremamente interessante perché è di prima mano ed è quello su cui gioca come dire l'incipit confidenziale l'incipit crooner cioè dice io non ti sto raccontando una storia io ti sto dicendo la verità è un po' come quel celeberrimo incipit delle confessioni di Rousseau in cui lui parlando della sua vita dice io lettore dirò la verità io ti dirò la verità ti dirò le cose come sono funzionate ti dirò come è andata la mia vita è la mia testimonianza io metterò il mio cuore a nudo di fronte a te tutto questo ci interessa incredibilmente è come una sorta di seduta psicanalitica che ci viene offerta e di cui possiamo godere senza nessuna difficoltà ho fatto alcuni ve li cito di seguito anche perché ormai il tempo è poco in realtà come vedrete non tutti hanno non tutti poi proseguono in prima persona ma altri sono dei romanzi in terza persona che iniziano in prima persona però iniziano in prima persona proprio perché l'autore ha avuto l'intuizione di capire che per creare quel rapporto di confidenza di affetto con il lettore occorreva iniziare in prima persona eravamo nell'auda di studio quando il preside entrò è il magnifico incive di Madame Bovary molto spesso ci si è chiesto dai critici ce lo chiediamo da 200 anni chi diavolo è che sta dicendo questa cosa quando noi eravamo nell'aula di studio quando il preside entrò il preside porta con sé un ragazzino quel ragazzino goffo brutto con un cappello ridicolo non è altri che Charles Bovary cioè colui che diventerà il marito della protagonista al punto tale che anni fa all'essi un bellissimo saggio di Vargasiosa che diceva sapete chi ha scritto Madame Bovary non Flaubert ma un compagno di classe di Charles Bovary perché in effetti è l'unica testimonianza poi improvvisamente scompare e noi andiamo dietro prima Charles il romanzo diventa a tutti gli effetti un romanzo in terza persona un romanzo realista ma è interessante il fatto che Flaubert che passa per essere il romanziere più impersonale di tutti inizi il suo primo romanzo in prima persona proprio perché vuole farci stare lì un altro caso molto simile è altro incipit straordinario è altro incipit di un libro che di fondo poi alla fine è in terza persona ma che inizia in prima persona Call me Ismael chiamatemi Ismaele Moby Dick perché? perché datemi un nome sono io sono il narratore voglio che sappiate che la storia che vi sto raccontando non è una cazzata è una storia che io ho vissuto io ho conosciuto tutto io ho visto tutto ma ci sono anche diciamo quelli che aprono invece una porta sulla vita del protagonista se sono matto per me va benissimo pensò Moses Herzog questo è Solbello e poi questo sicuramente conoscete se davvero avete voglia di sentire questa storia magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e come è stata la mia infanzia di schifo e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io e tutte quelle baggianate alla David Copperfield ma a me non mi va proprio di parlarne incipit straordinario anche questo l'incipit del giovane Holden in cui basta il modo che lui ha di parlarci di condurci basta vedere quanto è scazzato e allo stesso tempo audace per capire che tipo lui è siamo già innamorati di lui io non sono uno che racconta quelle storie di famiglie pallose alla David Copperfield io sono uno che racconta quello che gli è capitato le sue piccole cose se volete se non vi interessa questa storia andate altrove a me non interessa come dire non c'è nessuna captazio in Holden ed è proprio il fatto che lui disprezzi il lettore che conduce il lettore dentro è proprio il fatto che Holden non fa altro che dire io sono puro tutti gli altri sono dei filistei degli ipocriti a far sentire il lettore suo compagno contro il mondo ipocrite la cosa folla è che poi vende milioni di copie e quindi in realtà probabilmente tutti quei ipocriti quei filistei poi lo comprano per non sentirsi ipocriti e filistei ma questo è come dire la magia della letteratura e poi chiuderei perdonate la deformazione professionale chiuderei con l'incipit per me più importante almeno nella mia formazione che è longtemps je me suis couché de bonheur per molto tempo mi sono coricato presto diciamo che questo incipit è un incipit intraducibile al punto tale che è stato tradotto molto male ed è intraducibile anzitutto perché c'è un avverbio che in italiano non esiste è l'ontan diciamo che Proust prima di arrivare a quel lontan ci ha messo parecchio perché noi abbiamo come dire tutta la storia dell'incipit proustiani della ricerca e lui arriva dopo parecchi tentativi alla sintesi che questo lontan allora lontan è la ricerca in tutta la sua forza perché perché è un avverbio che esprime ciò che a Proust interessava di più cioè il tempo nella sua estensione noi lo abbiamo già come dire già dentro la parola lontan lontan è al punto tale che pur nella bella traduzione di Rabboni che è quella dei mondadori dove io l'ho letto da ragazzo che inizia con un per dare il senso della lunghezza dice a lungo mi sono corrigato di buon'ora a parte che è sbagliato di buon'ora perché buon'ora in francese bonheur significa presto in italiano invece significa presto la mattina non presto la sera però vabbè questa è un'altra questione però a lungo lui ha tolto la parola tempo e non ha senso il tempo è tutto nella ricerca se Proust ha iniziato la ricerca con la parola lontan e chiude la ricerca con la parola lontan uno che la traduce deve in qualche modo lasciarlo lì quel tempo ma questa è una mia piccola polemica che non ha nessun senso quello che volevo dirvi è l'importanza di quell'ontan allo stesso tempo quando noi sentiamo dire a qualcuno per molto tempo io mi sono coricato presto che cosa significa? significa che se l'ho fatto per molto tempo ora non lo faccio più quindi vuol dire che c'è stata tutta un'età della mia vita in cui andavo a letto presto ora invece sono un tipo che tira tardi la notte questo che significa in termini letterali e anche qui c'è tutta la ricerca la ricerca è un romanzo scritto da un uomo che lavora di notte in cerca della sua vocazione di scrittore che sta cercando di rievocare tutta la sua vita il passato il segreto della sua vocazione artistica e lo fa di notte perché crede che l'unico luogo in cui un uomo veramente possa conoscere è il buio è il silenzio Proust dice le opere d'arte sono figlie del silenzio quindi come dire quando lui andava a letto presto significava che viveva durante il giorno e quello è proprio il tempo perduto ora che è alla ricerca del tempo perduto lui lavora di notte quindi l'ontan c'è messo i coucher de bonheur per molto tempo mi sono coricato mi sono andato a letto presto significa anche appunto che ora è passato molti anni io tendenzialmente non lo faccio più l'ultima cosa che mi sento di dire su questo incipit straordinario è l'uso di quel tempo verbale che è appunto il passato prossimo j'ai messo i coucher mi sono coricato sono andato a letto presto se ve ne parlo è perché Proust stesso era ossessionato dai tempi verbali e avevo scritto un saggio nel 1920 straordinario sui tempi verbali in Flaubert in cui parla dell'imperfetto del passato remoto e via dicendo è interessante che un'opera come la ricerca del tempo perduto che è un'opera appunto come vi dicevo che vuole affacciarsi nel tempo per recuperarlo e portarlo qui non si apra né con un passato remoto come nella prima edizione della ricerca dell'incipit della ricerca né con l'imperfetto Flaubertiano che è il stato il secondo tentativo di Proust lui diceva io dormivo je dormais no? dice sì ma usa il passato prossimo cos'è il passato prossimo? il passato prossimo è quel tempo che crea una relazione tra il presente e il passato è un passato ma è un passato che ha una relazione con il presente e non è esattamente questo il cuore della ricerca un uomo che vive nel presente e cerca con tutte le forze di recuperare il passato nel suo incipit non poteva fare altro che utilizzare un passato prossimo grazie grazie grazie